Un buon punto in una gara difficile, difficile per una serie di motivi. Sicuramente abbiamo incontrato una squadra che gioca per altri obiettivi in un momento particolare, in condizioni difficili perché anche dal punto di vista climatico ha tolto un po' la possibilità di giocare palla velocemente, noi se non facciamo gira palla velocemente diventiamo un po' meno pericolosi e quando abbiamo cercato la profondità queste traiettorie venivano falsate un po' dal vento, però questo non deve essere, secondo me in una partita come oggi è venuta fuori un'altra qualità che è quella di essere sul pezzo e di saper portare a casa un risultato positivo in una partita non semplice, oggi è una partita strana anche per quello che era accaduto ieri a Pata e che ha lasciato un po' il segno in tutti quanti noi. Però la squadra ha tirato fuori il carattere giusto, il sacrificio giusto e ha saputo gestire anche in momenti più difficili con grande personalità e io di questo sono contento. Un punto importante per il nostro cammino, un punto sudato perché comunque il Toro è un'ottima squadra, uno, e due per come si è messa la partita, comunque la partita è molto maschia e abbiamo dimostrato di essere una squadra compatta, un gruppo solido e questa è una cosa importante. Poi sì, abbiamo concesso due occasioni, ma insomma, ripeto, abbiamo affrontato il Torino un'occasione con Belotti o Iago Falchi e una con Zazza, che comunque sono giocatori importanti e quindi ci sta, ci sta quello e quindi va bene così, un gran punto. Potevo far meglio, però mi sono trovato lì la palla all'ultimo su una sponda di Arthur. Ho tirato subito, sì, è uscita di poco, però insomma, va bene, va bene così. Pata ci mancherà perché comunque è un ragazzo allegro, adesso tra reabilitazione e operazione, comunque ci mancherà all'interno dello spogliatoio, quindi io per mia esperienza quando avevo momenti di sconforto chiamavo i miei compagni di squadra e quindi vorrei che facesse anche lui così e deve sapere, anche se è un nuovo, però si è integrato benissimo, che noi ci saremo sempre per lui. Era una partita difficile, lo sapevamo, sapevamo che avevano delle grandi individualità e diciamo che anche il vento poi non ha aiutato a permetterci di fare il nostro gioco. Ci abbiamo provato, ma non sempre, insomma, siamo riusciti a farlo. Comunque è un buon punto contro una grande squadra per cui possiamo anche essere soddisfatti. E diciamo soprattutto alla fine del primo tempo, quando magari abbiamo fatto un po' di fatica a uscire dalla nostra metà campo, anche perché provando a lanciarla lunga, tutto tornava indietro la palla. Sì, è una cosa positiva quella di non aver preso gol, ma è positiva per tutta la squadra, non solo per me o per i difensori. Abbiamo un po' di fortunati, ma assolutamente chi subentra è degno di essere un titolare anche lui, assolutamente, quindi sotto questo punto di vista non c'è nessun problema. Sappiamo che abbiamo una serie di partite che sono importantissime per la nostra classifica, per fare un campionato in cui possiamo anche divertirci e far divertire, per cui assolutamente già da domani mattina ci impegneremo al massimo per la prossima partita. Grazie a tutti.